Caterina la Grande, la sovrana illuminata che fece grande la Russia. Caterina II di Russia, meglio nota come Caterina la Grande, fu una delle figure più importanti e controverse della storia russa. Con un regno durato ben 30 anni, dal 1762 alla sua morte nel 1796, Caterina fu una delle sovrane più longeve della storia e la prima donna a governare la Russia in proprio. Nata a Stettino, in Prussia, il 2 maggio 1729, Caterina era figlia del principe tedesco di Analtzerbst. Nel 1745, all'età di 16 anni, sposò il granduca Pietro Fedorovi, erede al trono russo. Il matrimonio fu infelice e i due coniugi si odiavano apertamente. Pietro era un uomo rozzo e ignorante, mentre Caterina era una donna colta e ambiziosa. Nel 1762, approfittando dell'assenza di Pietro, Caterina organizzò un colpo di Stato e si fece incoronare imperatrice. Pietro fu imprigionato e poi ucciso, e Caterina divenne la sovrana assoluta della Russia. Caterina era una fervente sostenitrice dell'illuminismo, il movimento culturale che si proponeva di promuovere la ragione e la libertà individuale. Durante il suo regno, Caterina introdusse una serie di riforme che miravano a modernizzare la Russia e a renderla una monarchia illuminata. Tra le riforme più importanti introdotte da Caterina ci furono la creazione di un sistema di istruzione pubblica, la promozione delle arti e della cultura, la riforma del sistema giudiziario, la soppressione della servitù della gleba. Caterina fu anche una grande diplomatica e riuscì a espandere i confini dell'impero russo. Durante il suo regno, la Russia acquisì la Crimea, la Nuova Russia, la Bielorussia, la Lituania e la Curlandia. Caterina la Grande morì a San Pietroburgo il 17 novembre 1796, all'età di 67 anni. Fu una sovrana controversa, ma anche una delle più importanti figure della storia russa. Il suo regno fu un periodo di grande espansione e modernizzazione per l'impero russo, e Caterina è ancora oggi ricordata come una delle più grandi signore della storia. L'eredità di Caterina la Grande L'eredità di Caterina la Grande è ancora oggi oggetto di dibattito. I suoi sostenitori la ritengono una sovrana illuminata che ha modernizzato la Russia e la resa una grande potenza europea. I suoi detrattori la accusano di essere stata una tiranna che ha oppresso il popolo russo. Tuttavia, è innegabile che Caterina abbia avuto un'influenza profonda sulla storia della Russia. Il suo regno fu un periodo di grande cambiamento per il paese, e Caterina è stata una figura chiave in questo processo. I principali successi di Caterina la Grande possono essere così riassunti. Estensione dei confini dell'impero russo, Caterina fu una grande diplomatica e riuscì ad espandere i confini dell'impero russo per circa 500-20 mila chilometri quadrati. Modernizzazione della Russia Caterina introdusse una serie di riforme che miravano a modernizzare la Russia e a renderla una monarchia illuminata. Tra queste riforme vi furono la creazione di un sistema di istruzione pubblica, la promozione delle arti e della cultura, la riforma del sistema giudiziario e la soppressione della servitù della gleba. Sviluppo economico Caterina favorì lo sviluppo economico della Russia, promuovendo l'agricoltura, l'industria e il commercio. Le critiche a Caterina La grande Caterina la grande è stata anche criticata per alcuni aspetti del suo regno, tra cui, asterisco l'oppressione del popolo russo, Caterina è stata accusata di aver oppresso il popolo russo, mantenendo il sistema della servitù della gleba e sopprimendo le rivolte popolari. Lo stile di vita lussuoso, Caterina è stata criticata per il suo stile di vita lussuoso, che contrastava con la povertà della maggior parte della popolazione russa. Conclusione Caterina la grande fu una figura complessa e controversa, che ha lasciato un'eredità importante per la Russia. Il suo regno fu un periodo di grandi cambiamenti per il paese, sia in positivo che in negativo.